Ciao a tutti ragazzi, ben ali e ben ritrovati sul mio canale per un brevissimo video di Elden Ring Bene, voglio mostrarvi dove ottenere questo talismano ragazzi che può esservi utile Va bene che le ampolle poi appunto tramite le lacrime si potenziano appunto Guardate, vedete l'ampolla di lacrime cremisi? Praticamente più 8 quindi cura molto di più C'è una cosa anche oltre all'ampolla che appunto può permettervi di recuperare più vita quando bevete Ed è questo che ho appena trovato Adesso ve lo mostro Tra l'altro ne ho un bel po' adesso i talismani, inizio a verne un po' eh Questo Talismano del seme cremisi Aumenta il recupero PV da ampolle di lacrime cremisi Può essere utile, volendo se volete E praticamente si trova esattamente qua Dovete usare la chiave di pietra per togliere la nebbia che c'è qua davanti Andate qua c'è un pirla da uccidere e trovate qui sul cadavere il talismano ragazzi Proprio qui, e ora vi faccio vedere dove sono Sono all'alto piano di Altus Esattamente qua, nella tomba dell'eroe beato E per arrivarci praticamente dovete accedere a questa grazia, vedete Seguire questo sentiero, vedete Questo sentiero qua E arrivate Ah, poi se vi interessa qui C'è una bella boss fight Bella, figo lui, da vedere, il drago Ma come al solito, le boss fight con i draghi La difficoltà è data più che altro dalla visuale, molto spesso Bene ragazzi, spero che questo video vi possa essere utile Alla prossima